Quando lo Stato si distrae, cadono gli uomini, a Terramanis Karma. La penna arguta del giornalista Antonio D'Amore, la sensibilità artistica di Nicoletta D'Ale e Flavio Pistilli, unite alle voci degli allievi della scuola Fare Musica di Teramo, hanno dato vita al video musicale tra i più cliccati attualmente su YouTube, Terramanis Karma. Si tratta della reinterpretazione della canzone vincitrice di Sanremo con un nuovo testo pensato per richiamare attenzione sulla ricostruzione fisica e psicologica della provincia di Teramo, martoriata da tempeste perfette. Un progetto che è venuto così per caso ed è venuto benissimo. Accipicchia veramente, le cose migliori arrivano sempre per caso. Come vi è venuto in mente però? Ma in realtà io ho avuto un turbamento tutta la notte della finale di Sanremo, perché effettivamente un brano come Occidentalis Karma non è il solito brano da Sanremo, non pensavo potesse vincere. Quella notte lì ho cominciato a pensare dobbiamo scrivere qualcosa e fare qualcosa con questo brano perché sarà un tormentone, è un brano azzeccatissimo sia nel testo che soprattutto nella musica così movimentata. e ho detto dobbiamo scrivere qualcosa, qualcosa che possa dare un senso anche alla nostra situazione. E allora la mattina mi sono svegliata, ho aperto Facebook e ho visto che Antone D'Amore aveva scritto un simpaticissimo testo anche un po' impegnato. E poi avete coinvolto i ragazzi di fare musica. Ovviamente sì, non potevamo non farlo cantare a dei ragazzi giovani. 40.000 click già su YouTube. Ti correggo perché siamo arrivati a 52.000. 50.000 in due giorni. Non mi era mai capitato, quindi è stato emozionante seguire la crescita su YouTube. E poi siamo diventati anche video di tendenza, che è una cosa che mi hanno spiegato molto importante su YouTube. Allora viva Terramanis Karma. Viva, viva. Cantiamola tutta. Terramanis Karma sarà la colonna sonora del grande corteo di Abruzzesi che marcerà su Roma il 2 marzo. E chissà se Gabbani, ascoltando la nuova versione del suo pezzo, non decida di diventare testimonial di questa regione ferita. La gente poi si appalla, Terramanis Karma.